Buongiorno cari e care! Vi aspettavo, siete proprio puntuali eh! Oggi è una giornata molto importante e io ho un annuncio da farvi e per farlo ho deciso di dirvelo in una maniera molto speciale. Ci troviamo attualmente nel mio locale preferito quando frequentavo la MBA, quindi quando studiavo trucco. Si trova in via Torino ed è bellissimo, io l'adoro perché siamo addirittura dentro una torre romana con mattoni faccia vista ragazzi, fantasmagorico. Partiremo da qui perché oggi è una giornata davvero davvero particolare e io ho pensato di darvi questo annuncio qui nella città di Milano. È tardi, è tardi! Deformazione professionale, come sempre. Dobbiamo andare? Venite con me! Vi ho sempre parlato e vi ho anche un po' annoiato. In merito alle mie passioni, nonché il make up e l'insegnamento. Beh, oggi vi voglio portare nel posto dove tutto ebbe inizio praticamente, quindi il trampolino di lancio delle mie inclinazioni e dove ho potuto confermare la mia professionalità o comunque le mie capacità iniziali che poi sono diventate un lavoro. Ci troviamo in via Bagnera, nonché il tratto che collega via Torino alla Making Beauty Academy, nonché il posto dove vi devo portare. Piccola curiosità di questa viuzzola che poi sfocia direttamente davanti all'Accademia è che è la via più stretta di Milano. Si chiama via Bagnera proprio per il fatto che ospitava i bagni romani del Sacro Romano Impero. Piccola curiosità di Milano. Che emozioni cari e cari, sapete dopo che vi ho appena portato? Mi trovo nell'aula dove io appunto qualche anno fa studiai make up in Accademia. Questo era il mio posto prediletto e per me è una cosa davvero molto emotiva stare qui dentro perché è proprio qui, in questo posto, che le mie passioni si sono consolidate a tal punto da diventare una vera e propria professione. E in stile Alberto Angela non possono mostrarvi i santi graal di noi truccatori, soprattutto per gli esperti di body painting e art painting, nonché gli aerografi. Pensate che ad ogni aerografo si possono collegare sei truccatori per lavorarci. Passeggiando per i corridoi dell'Accademia poi vedrete tutti i successi ottenuti e raggiunti dai truccatori forniti dalla make up service che hanno lavorato per Italian Scott Talent, per l'Isola dei Famosi, per The Voice e molto altro ancora. Qui ci troviamo nell'aula dove si svolge il corso annuale. Buu! Ho sempre sognato di venire un'eroina azteca! Ciao ragazzi! Ciao Cristiano! Ciao! Tutto a posto? Sì! Senti, ho una domandina. Sì, ok. E per caso hai visto il mio elmo azteco? Cari e care, il tour dell'Accademia è qui concluso e vi ho portati in una delle aule dove si svolgono gli insegnamenti. Stavamo chiacchierando qui io e il mio altereo e richioba, però sono sempre più simpatica io. E non poca emozione vi devo dare un annuncio fantastico, ovvero da alunna dell'Accademia passerò ad essere un'insegnante. Vi assicuro che mentre ve lo dico mi trema la voce perché è davvero uno dei miei sogni, appunto. È il connubio delle mie due passioni, il make-up e l'insegnamento. Quindi ragazze, da settembre inizierà il mio corso di trucco 1 qui all'MBA di Milano. Il corso di trucco 1 da me tenuto partirà dalla fine di settembre 2017 e si svolgerà per 13 sabati, 4 ore a giornata, dalle 9.30 alle 13.30. Il programma sarà composto da teoria nella quale ho voluto inserire anche un po' di storia del make-up che personalmente adoro e ovviamente anche la pratica. Infatti le partecipanti saranno messe a coppie e si scambieranno appunto per provare le varie tecniche sulla compagna. Vi ricordo due cose importantissime ragazze. I corsi qui tenuti e frequentati alla MBA rilasciano un attestato di competenza di truccatore ai sensi della legge della regione Lombardia e valido in tutta la comunità europea. Questa è una delle cose davvero importantissime che vanta questa accademia ed era anche uno dei motivi per il quale io la scessi. Seconda cosa, ultra ultra importante se siete interessate a questo corso ma lo sono sicurissima perché una delle cose che mi chiedete più spesso sul mio canale YouTube e sui miei social network è proprio quando avrei mai tenuto un corso di make-up ed è per questo che sono contentissima di comunicarvi questa cosa e di aver avuto questa possibilità di collaborazione con l'Accademia è che se inserirete nel form del link che vi lascio qui sotto nell'info box questo codice vi permetterà di darvi una priorità sulle iscrizioni perché appunto c'è un numero di partecipazioni massimo. Non posso dirvi di più perché troverete tutte le informazioni dettagliate e super super precise qui sotto nell'info box vi lascio anche tutti i link del sito dell'Accademia che vi possono essere utili. Io con il cuore in mano vi aspetto a settembre e quindi vi mando un grossissimo bacio ci vediamo prestissimo! Bye! Qui dalla MBA Ciao! There he go! Motore G Scusami Vai Direi che In seguito Per accapparrarsi Quasi sicuramente un posto Aspetta, mi sembro una strada Azione Aspetta, hai detto azione dopo I bagni romani Del sacro romano impero Stop 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 No Stop Grazie a tutti.